Veneto, caldo e segreto di Antonia Arslan. Non è facile scrivere del Veneto. È una parte d'Italia forte, importante e ricca di un'originale e affascinante storia culturale e politica, che tuttavia non gode di buona fama presso le altre regioni del nostro paese. La sua antica nobile lingua viene usata nei film o nelle produzioni televisive solo come pennellata ironica per dipingere caratteri meschini o ridicoli, ossessionati dagli schei o credenti in una fede limitata e asfissiante, abili solo nel gestire astuzze miserabili, ricoperte da un velo l'ipocrisia di cattivo gusto. Perfino la pronuncia dei nomi del Veneto viene comunemente storpiata dalla televisione, con quasi automatica supponenza. Benetton diventa Benetton. Coin viene pronunciato coin. I colli euganei si trasformano in euganei, senza che nessuno dei Veneti osi protestare. Stretto fra le due vivaci regioni a statuto autonomo, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia verso nord e verso est, e il modello Lombardia a ovest, con al centro Milano, forse l'unica città d'Italia veramente europea, il Veneto soffre oggi di un'eclissi di visibilità e di importanza che dura da molti anni e non sa più proiettare un'immagine di sé che sia coerente con la sua meravigliosa storia. Eppure è un caldo nido di affetti e di luminose intelligenze, un luogo che da 3.000 anni si evolve con autonomia e sapienza e spazia dalla civiltà preromana dei Veneti allevatori di cavalli, con un suo alfabeto, sue forme artistiche e sue proprie leggi e riti, eccezionale la recente scoperta della situla dell'Alpago, lamina bronza decorata sbalzo con scene molto realistiche di un amplesso e di un parto, fino alla Repubblica di Venezia con la sua durata millenaria e trionfale. Se Padova e Roma furono entrambe, secondo la leggenda, fondate da esuli troiani, Padova lo fu per prima e lo ha sempre rivendicato con orgoglio. E nel Rinascimento, questa stagione esplosiva del genio d'Italia, spesso paragonata all'Atene del V secolo a.C., i due poli dinamici, che interagirono fruttuosamente per costruire quella stagione d'arte irripetibile che avrebbe segnato lo sviluppo della cultura occidentale nei secoli seguenti, furono Firenze e Venezia. Le due capitali dell'umanesimo raccolsero l'eredità di Roma e Bisanzio e fiorirono in una varietà di personalità estrose, brillanti, inventive che rivoluzionarono ogni campo dell'arte, in feconda concorrenza e reciproco nutrimento. La struttura stessa di alcune città italiane, come Ferrara, Urbino, Pienza, fu ridisegnata riflettendo il geniale progetto culturale e l'innovativa visione architettonica di artisti e mecenati. Ma Firenze è circondata dalla Toscana, come Venezia, dal Veneto, e condivide col Veneto una ricchezza di arte e di storia diffusa su tutto il territorio. Tante città, tutte diverse e una più interessante dell'altra, tutte da visitare, come la campagna che le circonda. È un modello di bellezza realizzata, quella civiltà cittadina e rurale integrata che ha realizzato nei secoli l'inimitabile paesaggio armonioso e stratificato che affascina da secoli i viaggiatori e rende unica l'Italia. Le ville venete e le ville toscane condividono strutture che ripensano la classicità e la reinventano in forme originali, anche se i loro autori approdano risultati estetici e funzionali ben differenti, utili ai committenti e ambientazioni altrettanto diversi. Eppure la campagna toscana ha conservato e ha cresciuto una fama mondiale ed è oggetto di un'attenzione enorme da parte di turisti, ammiratori e compratori stranieri. Il Chianti viene ormai spesso chiamato Chianti-Share, mentre la dolce campagna veneta è percepita come il luogo operoso delle mille fabbriche e fabbrichette diffuse su tutto il territorio, fonte di prosperità e di benessere certo, ma a costo di un grande imbarbarimento estetico. Una terra violentata, dove singole oasi di bellezza, cittadine e ville e parchi stupendi, sopravvivono isolati in mezzo a un mente squallore di belle case rustiche abbandonate e in rovina, villette pretenziose con alberini cimiteriali davanti e tantissimi capannoni, anche essi purtroppo spesso oggi inutili e vuoti. E tuttavia, non parlavo per caso prima del Veneto come di un caldo nido di affetti. Non è in realtà perduta, si è solo un po' nascosta questa incredibile qualità dell'intera regione, l'amabilità affettuosa che si rispecchia nella parlata ampia, tenera, che non pronuncia le doppie e ammorbidisce i suoni più pungenti della lingua nazionale. Si trova ancora quasi dappertutto l'ospitalità serena, che non giudica con durezza, ma valuta con calma i pro e i contro di ogni situazione e concede credito allo straniero. Ma non illimitato, i conti alla fine devono tornare. Tutto si regge in antico equilibrio nei paesi del Veneto e nelle tante caratteristiche piccole città, spesso di antica e nobile origine, dove tradizione e arte di vivere ancora resistono. Gli strambi e i matti, i ragazzi irrequieti e i vecchi da bocce e da osteria, i mariti traditi e le donne di coscia leggera, fanno parte del panorama della vita, come le ville dei nobili e i campanelli di ogni villaggio, come il buon vino e i cibi saporosi. I veneti parlano volentieri e sanno raccontare le storie. La massa di turisti viene per Venezia, la città d'acque che resiste come un miracolo appolaiata sui mille pali che la sostengono. Questo luogo dell'immaginario mondiale, la cui straordinaria bellezza respira e si svela lentamente a ciascuno, diversa in ogni stagione. Ma non solo per questo. L'impronta palladiana è infatti ancora, nonostante tutto, una cifra costante del paesaggio Veneto, dal quale si è diffusa in tutto il mondo, dalle country homes inglesi alle ville padronali degli Stati Uniti del Sud, alla Casa Bianca, alle mille rivisitazioni di quelle geniali e gradevoli forme architettoniche in ogni angolo della terra. Gli stranieri riconoscono nelle strutture create da Andrea Palladio un modello di eleganza irripetibile, bianche di pietre locali o di marmi. Esse sedevano al centro o a un capo dei loro parchi maestosi, nei quali giardinieri, inventori e raffinati artigiani hanno sparso, nei secoli d'oro della Serenissima Repubblica, statue, colonnati, tempietti e tante misteriose delizie, dai giochi d'acqua ai teatri vegetali, dalle grotte artificiali alle peschiere alle immense vasche per le naumachie come a Piazzola su Brenta. Devo a un'amica americana il più serio pellegrinaggio attraverso le ville palladiane. Le conoscevo tutte e me le fece riscoprire, con i loro segreti e i loro incantevoli nomi femminili. La Badoera, la Malcontenta, la Saracena. Per incuria, per i disastri della guerra, per l'impoverimento di molti proprietari, siamo negli anni 50, questo immenso patrimonio stava andando in rovina. L'Italia prostrata di quegli anni si rimboccava le maniche, ma si preoccupava ben poco del suo immenso patrimonio artistico. Fu uno studioso trevigiano, Bepi Giuseppe Mazzotti, che riuscì quasi da solo a sollevare il problema delle ville venete e a creare un movimento d'opinione trasversale e diffuso che portò alla creazione, nel 1958, dell'ente ville venete, rendendo un po' alla volta gli abitanti della regione consapevoli dell'unicità e del valore, anche economico, di quell'eredità. Andarono così di pari passo, nei decenni successivi, la distruzione del paesaggio e i suntuosi ricuperi di molte delle grandi ville palladiane, scamozziane, seicentesche e settecentesche, con i parchi e le barchesse, le cappelle e gli affreschi. Nuovi ricchi comprarono e antichi nobili restaurarono, scoprendo le notevoli risorse delle loro location. Matrimoni, feste, ricorrenze di ogni genere, acquistavano valore aggiunto dalle ampie sale, dai giardini e dagli spazi affrescati che portavano il blasone di glorie passate, ma non cancellate. Ma questo, e anche la voga attuale dei Bed and Breakfast, ha portato a una certa diffusione della conoscenza delle bellezze nascoste della regione, ha un certo raffinamento del gusto. In diversi casi sono stati anche i sindaci ad acquistare una villa o un bel palazzo per farne la sede del comune, spesso con azzeccati e accurati restauri. E così capita che le sedute del consiglio comunale di un piccolo paese, o magari una conferenza organizzata dalla biblioteca, si svolgano sotto lo sguardo benevolo di ninfe e satili danzanti fra dolci colline, in paesaggi di sogno. L'impronta della civiltà delle ville si riconosce in tutta la regione, ricordando al viaggiatore l'estensione del dominio veneziano, con sfumature diverse che riflettono i diversi usi e committenze. Particolarmente care al mio cuore sono però le ville e le case rustiche della Val Belluna, più piccole e meno fastose, in cui gli stilemi palladiani si ripetono in chiave minore, con gusto affabile e accogliente, e vengono declinati in perfetto accordo alla gente del luogo, al paesaggio ameno della valle e alla straordinaria scenografia delle alte montagne dolomitiche che la circondano. Scrisse Dino Buzzati, l'ultima onda della Serenissima si rompe e muore ai piedi delle misteriose cattedrali del nord. Anche qui, all'origine, ci fu qualcuno che le andò a studiare una per una, Adriano Alpago Novello, che nel 1961, in ville e case dominicali della Val Belluna, le trasse dall'ublio e descrisse il sistema delle ville come una straordinaria sinfonia che, pur composta in più secoli da molti diversi artisti, sembrerebbe uscita di getto da un solo compositore. E poi ci sono le preziose città murate, Cittadella, Castelfranco, Marostica. Non occorre San Gimignano per immegersi come in apnea nel mondo del Medioevo. Basta partire da Padova e allontanarsi 46 chilometri per raggiungere Montagnana. In mezzo a placide campagne, una strada dritta conduce a una porta della cittadina, tutta compresa nella sequenza intatta delle sue mura e delle sue torri merlate. Sedersi nella piazza centrale, da dove si diramano le vie che portano alle quattro porte, mi ha sempre dato una sensazione straordinaria di calda protezione, un abbraccio di pietra in grado di tenere lontana ogni paura. All'esterno delle mura, un ampio prato verde sostituisce l'antico fossato di difesa, ma non stona. La città al centro appare come uno splendido gioiello luminoso della vasta pianura. Per il viaggiatore, e anche per noi che ci abitiamo, è una continua sorpresa scoprire del Veneto la forma segreta, alzare il velo sui tanti antichi resti di realtà del passato e ripercorrerlo attraverso celati segnali. Luogo di terra ben coltivata e di avventurosa marineria, dalle invasioni barbariche all'immensa intraprendenza commerciale, dall'intelligenza di governo veneziana al coraggio tenace e concreto nell'esplorare e inventare scambi fruttuosi con l'Oriente. La regione conserva le tracce ancora ben evidenti di tutte le civiltà che vi si sono incrociate e della loro misconosciuta bellezza. Gli elenchi sono facili ma ingannevoli, perché ogni luogo e ogni ricordo ne trascina con sé un altro. L'incantata atmosfera di Asolo, regno di Caterina Cornaro e di Eleonora Duse, o il Colle di Feltre con i suoi palazzi rinascimentali a strapiombo sulla città, il minuscolo teatro di legno, il teatro della Sena, il castello di Zumelle, Baluardo del Nord, il passo di San Boldo con le impressionanti gallerie scavate dagli austriaci nel 1918 che connette il trevigiano col bellunese, le fertilissime valli veronesi traboccanti di pesche gialle, Verona e il suo garda Catulliano, i colli uganei coi loro profili bizzarri, il nido di Arquà e le acque suffure già note ai romani, le valli isolate con le pievi romite, le magnifiche certose di Praglia e di le grandi piazze festose dai nomi di buon auspicio, delle erbe, dei frutti, della biada, dei signori a Verona, Vicenza, Padova. E infine, ultima ma non ultima, una memoria personale che mi è cara come un simbolo di tutti i popoli d'Oriente che a Venezia e nel Veneto trovarono lavoro, casa, una nuova patria. Mio nonno Yervant Arslanian a 13 anni venne a studiare a Venezia al collegio armeno Morat Rafael e poi si laureò a Padova, sposò una vezzosa contessina e divenne un grande chirurgo. La sua piccola figura nervosa sul calessino veloce e la nuvola di polvere che lo seguiva per una delle bianche strade napoleoniche fra il dolo e la mira sulla riviera del Brenta è uno dei miei primi e più amati ricordi di infanzia. Grazie.